Amici sportivi, siamo qui con Achim Calgaro, uno dei protagonisti del Roboante 4 a 4 di oggi tra Montecchio e Villafranca. Achim, innanzitutto complimenti per il campionato che stai facendo e oggi hai fatto ancora meglio. Come ti trovi qui a Montecchio e questo campionato come ti sembra? Qui si sta benissimo, è una bellissima piazza, la squadra è forte, competitiva e l'abbiamo dimostrato anche oggi. C'è un po' di rammarico perché fossimo partiti leggermente meglio a inizio stagione e magari non saremmo qui a rimpiangere tante situazioni. Però è ancora lunga quindi non ce la giochiamo fino alla fine. Un 4 a 4 che quindi vi permette di rimanere ancora in scia nelle primissime posizioni. Ricordiamo il Caldiero ha pareggiato e il Cartigliano ha vinto. Questo a Montecchio che tipo di campionato vuole fare? Noi siamo partiti fin dall'inizio con l'idea di salvarci, salvarci, fare un campionato tranquillo e mettere in mostra quali sono i nostri potenziali. Adesso ovviamente la colina in gola ce l'abbiamo perché siamo lì davanti con tre squadre davanti fortissime, quelli Caldiero, Villafranca e Cartigliano. Noi ci proveremo fino alla fine a fare il meglio, a dare il meglio, poi quello che arriva, arriva insomma. Non stiamo qua di sicuro a piangerci addosso perché come tutte le partite entriamo per dare il massimo, quindi non abbiamo rimpianti. Come ho scritto ieri io ti faccio i miei complimenti perché sei stato uno dei giocatori che più mi ha impressionato e in bocca al lupo per il proseguo del campionato, Achim. Grazie mille, altrettanto. Siamo qui con Alessandro Tresso, capitano del Montecchio Maggiore. Alessandro, volete proprio farmi lavorare? 8 gol, ho dovuto montare i gol a velocità della luce. No, sì, oggi sì, volevo farti lavorare. Abbiamo fatto, è sempre una bella partita con il Villafranca, dai, combattute sia l'andata che oggi è stata scoppiettante. Ascoltami, 4 gol da parte vostra, 4 volte ha rimontato il Villafranca, con i secoli ma non si fa la storia, però se quel tiro di Casarotto poco prima del 4-4 andava dentro? Eh, sarebbe stato bello perché l'avremmo chiusa, solo che è andata così, siamo sempre passati in vantaggio, Villafranca è una squadra tosta e si è visto, bei nomi, un'ottima squadra, organizzata bene. Noi ci abbiamo provato fino alla fine e ci proveremo ancora nelle prossime nove. Allora, prima ho intervistato Achim e secondo me mi ha detto mezza bugia. Quando gli ho fatto la domanda che campionato vuole fare il Montecchio, lui mi ha detto la salvezza. Allora, a questo punto della stagione proviamo a sbilanciarsi un po' di più. Allora, sì, l'obiettivo era la salvezza. Ovviamente in questo momento è bello star lì e quindi qualcosina in più cercheremo di portarla a casa, quello che viene, viene. Affrontiamo ogni domenica, il bello di questo gruppo è che ogni domenica è affrontata come... Domenica è sempre una battaglia ed è quella la nostra forza, proprio di squadra. Bene, Alessandro, io faccio i complimenti a te e al Montecchio perché veramente come ho scritto ieri è stata una delle squadre che più mi ha impressionato quest'anno. In bocca al lupo per il proseguo del campionato. Crepi, Germano, grazie per tutto il lavoro che fai. Grazie. Siamo qui con mister Davide De Forni e in telecronaca mister ho detto una partita vietata ai deboli di cuore. Te l'avresti mai immaginata una partita del genere? No, allora, a dire il vero ci aspettavamo un Villafranca che non è primo a caso, non è primo, non ha sei punti di vantaggio sulla seconda perché se lo merita. Peccato perché l'avevamo preparata bene, non penso di dire una bugia se forse meritavamo la vittoria, come non meritavamo la sconfitta, anche come hai detto tu, all'andata. Faccio un bravissimo, come dire, un bravissimo ai ragazzi perché ci credono, ci stanno provando sempre. Oggi hanno giocato da Leoni, paghiamo sempre qualche ingenuità perché un po' il primo gol e anche sul secondo una respinta fatta male. E scusa, sul terzo, sul terzo, invece di calciarla abbiamo respinta male. Ma ci stanno il calcio, ci sta. Ci sta quando prepara una partita così, ci stanno anche questi. Quindi onora Villafranca perché non ha mai immogliato. Quindi ci sta. E onora a questo Montecchio che secondo me ha dimostrato, dopo indipendente da come andrà, che può mirare a far bene, come sta facendo. L'ultima domanda, tra le squadre che hai incontrato, Davide, qual è stata quella che più ti ha impressionato? Villafranca, secondo me, ha alternative importanti. Quindi avere alternative è una cosa buona. Come solidità il cartigliano ha fatto bene quella da noi, anche se restare in dieci al decimo del secondo tempo contro un cartigliano così può sembrare dura. Ma adesso sarà tutta una battaglia perché anche la Provesi si sta comunque ripresanzando. Vedo voi favoriti sicuramente e non perché mi intervisti tu. E poi è una bella bagarre. Non penso che neanche la Villafriore sia esclusa dai giochi, anzi. Bene, io come all'andata, Davide, ti ho portato un po' fortuna, ti rinnovo i complimenti perché veramente come stai facendo il primo anno qui alla guida del Montecchio stai regalando, secondo me, ai tifosi castellani veramente grandi, grandi emozioni. In bocca al lupo per le ultime partite. Altrettanto anche a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.